Ciao a tutti youtuberini e youtuberine, benvenuti in questo nuovissimo video. Allora, innanzitutto buon 2018 a tutti, anche se sono passati tipo 10 giorni, ma non importa. E questo video, come potete benissimo leggere qui sotto, è il preferito di dicembre 2017, cioè... Allora, come prima categoria abbiamo la categoria canzoni, ne ho due, una di Ed Sheeran e una di Fedez, che vi faccio sentire subito. Perché di anelli sono fatte le catene, seppur così presto non ne faccio altrimenti, cuore in arresto, favorisca i sentimenti. Nel pomeriggio lasciamo la stanza, io che non dormo, sui voli l'ustansia, tu stai ancora un po', ancora un po'. La seconda, appunto, è di Ed Sheeran, Ed Sheeran, Perfect. Come seconda categoria abbiamo la categoria film. Ho sempre due film, uno è Fino all'osso, che è un film drammatico, che parla di una ragazza che soffre di anoressia. E il secondo film è Fun Mom Dinner, che è una commedia. Ed è veramente carino come film entrambi. Sono due generi completamente diversi, però, insomma, ve li consiglio. Terza categoria è l'acquisto del mese. A dicembre ho acquistato questo meravigliosissimo copri più mino di Harry Potter. E ha anche le due federe. Più ho comprato anche i quattro cuscini, a parte, non di Harry Potter, che vi faccio vedere ora. Il copri più mino l'ho pagato 25 euro, che consiste nel copri più mino, appunto, e le due federe per letto matrimoniale. Poi, i quattro cuscini li ho pagati 9 a coppia. Quindi 9 di 2 e 9 di 2. Poi, prodotto make-up. Il prodotto make-up è questa tinta labbra che ho addosso ora, che è di Primark. E vi lascio la clip, così capite? E l'ho pagata 4 euro. Dopodiché, la categoria momento preferito è l'ecografia, che sono andata a fare l'ecografia con Lara. Perché... Bebè in corso. Bebè in corso. Sì, Lara. Aspetta un bebè ed è un... Non lo dico cos'è. E lo scoprirete se vi interessa. Insomma, andate sul suo profilo. Instagram, che è questo qui. Seguitela, anche se ha tipo una foto per ora. Però seguitela perché presto ci penserò io al suo profilo. Poi, come serie tv... Oh my god. Ho scoperto Lost. E... Cioè... Helpatemi! Hashtag Helpatemi! Perché la sto divorando. Cioè, appena l'ho scoperto, ho detto... Oh my god. Sera, mattina, notte, a guardare solamente Lost. E quindi è la mia serie tv preferita. Sia del mese che preferita, preferita, preferita. Poi ho anche un'altra serie tv, la seconda serie tv, che è New Girl, che è una commedia. Diciamo. Come ultima categoria abbiamo la categoria YouTuber. E... Conoscevo già questa YouTuber. Ancora, tipo, quando ci era. Quando c'era Netlog. La seguo da allora. Ed è Martina Piccu. Che... Boh... Mi ci rivedo in tantissime cose in lei. E quindi è una mia fonte di ispirazione. Premetto che non tradirò mai la Sabri Gamer. Anzi, ormai è solo la Sabri. Quindi la Sabri è la Sabri. Martina è Martina. Ovviamente. E... Vi ricordo di seguirmi anche su Instagram. Continuo a cambiare il mio nickname. Però credo che questo qua sarà... Definitivo. Lo spero. Perché, tipo, in un mese l'ho cambiata due volte. Però questo sarà il definitivo. Ve lo prometto. Comunque qui sotto nell'info box trovate i link dei miei vari social network. Social media, come volete chiamali. Insomma, di Instagram, Snapchat, Musical. Tutti i social che faccio parte. Vi lascio qui sotto. Comunque i link. Vi mando un grandissimo bacione. E ci vediamo al prossimo video. Ciao! 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 Ciao!